Ciao a tutti! Oggi prepareremo i budini di fragola con pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono fragole, zucchero, vanillina, amido di mais e latte e granella di pistacchi per decorare. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la vanillina e li facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le fragole ed azionare il bimbi per 15 secondi a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola, unire il latte, lamido di mais ed azionare il bimbi per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. versare in bicchierini lasciare intiepidire e riporre in frigo per almeno otto ore. trascorso il tempo i budini sono pronti a decorare e servire. Budini di fragola con pistacchi grazie e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta Grazie.